Buongiorno, la giornata si apre con l'informazione su Fano TV, canali 17, con la rassegna stampa daremo un'occhiata ai giornali alle 7 e mezzo come tutte le mattine da lunedì al sabato. Buongiorno anche a chi ci segue in replica, cominciamo dal santo del giorno, il santo di oggi, la chiesa ricorda San Giovanni Eudes, parliamo di un santo nato nel 1601, il sole sorto alle 6.17 e tramonterà alle 20.06. Andiamo sul sito trebimeteo.it questa mattina e andiamo a vedere subito come si evolverà il tempo per la giornata di oggi, vedete la cartina dell'Italia in particolare con temporali che oggi saranno più intensi al nord, un po' più sole da altre parti, però avremo, vedete, la pioggia che arriverà anche sulla nostra regione, sulle Marche con isolati rovesci nel corso della giornata. Andiamo sul sito della protezione civile delle Marche, avremo come indica la previsione un cielo irregolarmente nuvoloso nella mattinata, con alternanza di nuvolamenti e annuvolamenti più intensi e aschiarite, diminuzione della nuvolosità nella seconda parte invece della giornata, nel pomeriggio con prevalenza di sereno. Nella prima parte, il primo pomeriggio, rovescio temporali sparsi previsti nelle zone dell'entroterra e temporali locali lungo la costa, le temperature sono stazionarie o in lieve diminuzione. Per la giornata di domani, sabato, andiamo a vedere subito la cartina con l'animazione, ecco qua, vedete il sole che splende su tutta la costa, soltanto cumulo nembi nell'entroterra. Per la giornata di domenica, lo stesso, cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio avremo isolati rovesci nelle zone interne, in serata invece rovescio temporali sparsi lungo la fascia costiera. Quindi domenica divisa a metà tra il tempo buono al mattino e la sera, invece il cattivo tempo. I giornali questa mattina pubblicano le foto di una ragazza di 20 anni che l'altra mattina all'alba, mentre tornava da una festa a Cantiano, ha perso la vita. Probabilmente è stato un colpo di sonno, le ha fatto perdere il controllo dell'auto, auto che è andata a finire contro un albero, con lei c'erano altre tre persone, tutte quasi miracolosamente illese. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Guardate che bella ragazza, che bella foto, morire a 20 anni dopo una festa. Claudia Rosati si è schiantata all'alba con l'auto, tornando a casa, feriti i tre amici che viaggiavano con lei. Shock a Cantiano, aveva partecipato a Chiaserna al party dell'estate nel locale dove lavorava ogni tanto come barista. L'Opelagila, sulla quale viaggiava, è sbandata sulla carreggiata finendo contro un albero inutile i soccorsi. L'incidente è avvenuto intorno alle 4.50 del mattino dell'alba dell'altro ieri sulla strada provinciale 50, nel tragitto che dalla frazione di Chiaserna porta appunto a Cantiano. Questa è la pagina in primo piano del Corriere Adriatico. Naturalmente richiamo in prima pagina, nello schianto altri tre feriti, la tragedia all'alba. Claudia Rosati tornava a casa. Centro pagina invece sull'edizione di Pesaro del Corriere Adriatico. C'è questa notizia che un po' arriva durante l'estate, l'avvistamento di oggetti non identificati. Ho visto un UFO al San Vicino, racconta una persona, l'avvistamento scatena quindi la caccia, l'esperto conferma. Non è la prima volta, dice lui, che in quella zona, San Vicino, provincia di Ancona, si vedono o vengono addirittura fotografati questi oggetti che si muovono di colore rossastro, che si muovono molto velocemente. L'attenzione è stata attirata da uno strano raggio di luce. E questo è quello che troverete nelle pagine interne dell'edizione di oggi del Corriere Adriatico. L'estate calda di Marche Nord, parliamo di sanità. Vedete il Presidente Luca Ceriscioli con il Direttore Generale di Marche Nord, Capalbo. Maria Capalbo, l'estate calda di Ciro di Marche Nord. Rebus logistici e addi pesanti, riferimento a Costantino Zingaretti che ha 62 anni e dal primo dicembre lascerà appunto l'azienda Marche Nord. Si prepara ad una nuova vita professionale fuori dalla regione. Insomma, questo ha creato qualche polemica. Forlani invece, Arnaldo Forlani, ex segretario della DC, che oggi ha 90 anni, Forlani migliora, è ricoverato in ospedale. Resta all'interno del nosocomio perché dopo l'intervento ha iniziato la fisioterapia. Poi considerando anche l'età si ritiene opportuno prolungare ancora per qualche giorno il ricovero per adeguare le terapie di supporto. Intanto ecco la foto del professor Zingaretti, del quale parlavamo poco fa, Costantino Zingaretti, che ha deciso di lasciare dal primo dicembre Marche Nord. E adesso invece andiamo sulla pagina, andiamo a vedere la pagina che si occupa di questi oggetti non identificati. Guardate un UFO sul monte San Vicino, scatta subito la caccia dall'avvistavento, la segnalazione del ricercatore Danino Baldini. Non è la prima volta che avviene in questa zona. Dal 1986 al 2015 sono state pensate 398 gli avvistamenti nelle marche. Poi alcuni erano satelliti, altri pianeti, stazioni spaziali, lanterne cinesi, che poi ce ne sono tante, uccelli in volo. Insomma c'è di tutto, tutto quello che non è identificabile passa sotto la sigla UFO, che in inglese è l'acronimo di oggetto non identificato. Volante non identificato. I testimoni però dicono di aver visto questa luce rossastra volteggiare in cielo, poi risalita ad alta, altissima velocità. Adesso l'altra pagina del Corriere Adriatico, andiamo sulla pagina di Fano. Parliamo di famiglie in difficoltà e di famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, che hanno problemi con le bollette della luce, del gas, eccetera, eccetera. Ebbene c'è una task force adesso in aiuto dei poveri, centinaia di famiglie che sono sull'astrico, c'è un piano che è stato presentato dai comuni e dall'ambito sociale. E' importante per chi si trova in questa situazione di necessità economica, è importante leggere questo articolo e chiedere all'ufficio del comune per sapere come fare la domanda, perché è importante presentare questa domanda e soprattutto presentarla nei tempi utili, perché tra l'altro non c'è tanto tempo. Nel Fanese sono 1.100 le persone che vivono in condizioni precarie, i contributi grazie a questa task force, grazie a questo fondo europeo, i contributi vanno da 80 a 400 euro al mese, chiaramente non vita natural durante, c'è un periodo limitato nel tempo entro il quale appunto si potranno ricevere questi soldi, questi aiuti da 80 a 400 euro a seconda di tutta una serie di parametri. Però se avete bisogno di informazioni, contattate l'ufficio del comune di Fano, i servizi sociali. Ok? Acqua sempre torbida, colpa degli scogli, l'altro articolo sulla pagina di Fano del Corriere, ASET ha stanziato un fondo per portare le tubazioni a 300 metri dalla riva, è un problema chiaramente ormai annoso che crea anche quelle famose ordinanze anche temporanee di divieto di balneazione. Poi guardate qui invece, l'abbiamo fatto vedere anche ieri sera nel telegiornale, in replica alle 11 e alle 13.45 circa di oggi, e poi ho un'demanda anche sul sito. La giungla dei semafori fuori uso e rotti, quanta confusione per gli automobilisti. Il Movimento 5 Stelle di Fano chiede al sindaco Seri di intervenire subito, perché parla di obrobri pericolosi, turisti e cittadini sono spesso tratti in inganno, non tanto ormai i cittadini che, come dicevo ieri, non ci fanno quasi più neanche caso, però certamente uno che non conosce la città, che viene qui per la prima volta, pensa che siano funzionati, pensa che in qualche modo debba scattare il verde, il rosso o qualche cosa, e invece sta lì, aspetta e non succede niente. Perché? Perché sono rotti. Il sindaco si muova questa volta alla svelta, dicono quelli di Grillini, e li tolga definitivamente dalla vista di tutti. È una cosa che abbiamo già chiesto più volte, nessuno ci ha mai messo le mani, speriamo che questa sia la volta buona. Pedoni e ciclisti ignorati come con Aguzzi, Aguzzi è l'ex sindaco di centrodestra, che ha governato la città per una decina d'anni. Laura Serra, noi città serve coraggio, dice, e cultura, Pesaro è la maestra, dice lei. Effetti speciali all'aeroporto di Fano, così diventerà un set da David. In esposizione alcuni pezzi del film di Garrone firmati da Giomaro e Diamantini. Carlo Diamantini lo vedete in questa immagine qua sopra, sotto invece Giomaro con il David di Donatello. Ed è, sono due maghi degli effetti speciali che fanno cose straordinarie, lavori importanti anche per grandi produzioni. Durante la Kermesse ci sarà questo spazio eventi, dimostrazioni, di trucco cinematografico, quindi per qualcuno servirà anche per capire, sotto i piccoli, senza spaventarli troppo, che questi film sono tutta finzione e che quindi quello che vedono non è vero. Al Paese dei Balocchi, Donciotti ad Ottaviani. Ottaviani è il centenario atleta che ha partecipato anche al Festival di Sanremo, lo ricorderete, di Sant'Ippolito. Ebbene, Donciotti ieri è stato nominato sindaco del Paese dei Balocchi, oggi invece arriverà Ottaviani che con i suoi cento anni, con il suo fisico e la sua voglia di vivere e la sua passione per l'atletica diventerà, verrà nominato assessore allo sport del Paese dei Balocchi. E adesso andiamo avanti con la rassegna, andiamo sulle pagine della Valle del Cesano. Cicloturismo che passione, i turisti arrivano pedalando. Boom del settore, impazzano i tour immersi nelle bellezze naturali storiche. Questa è, guardate che bella immagine, questa è la fotografia che ritrae appunto dei cicloturisti sul Monte Catria, sempre in provincia di Pesaro e Urbino. 21 ore di grandi concerti, siamo a Marotta, spettacolo sulla spiaggia libera. Parte l'atteso Marotta Acustica Festival con incontri, jam session e ospiti internazionali. La pagina di Senigallia, torna il mercato e affolla il centro. Bancarelle di nuovo in Piazza Garibaldi, quella restaurata, bellissima, dopo dieci mesi di restauro. Campanile dice, è una gioia, ambulanti soddisfatti, contenti pure i commercianti di Via Marchetti, negozi pieni, era ora, insomma tutti felici e contenti per una Senigallia. Davvero strepitosa. Allora, andiamo adesso invece sulle pagine di Pesaro del Corriere Adriatico. Colpo al distributore, flop dei ladri, una banda è stata messa in fuga dalla nebbia. La nebbia è quel sistema d'allarme che a quanto pare funziona meglio di qualunque altro, perché insomma con la nebbia, così come accade quando c'è quella naturale, insomma si riesce a fare ben poco, quindi la nebbia ha impedito, questo getto potente di vapore che ha investito i ladri ha impedito di vedere, quindi sono dovuti scappare, volevano rubare al bar dell'area di servizio, un getto appunto ha neutralizzato tutto. Si tratta del distributore Kuwait di Villa Fastigi a Pesaro. E ora andiamo a comandare, questa è la pagina invece di Pesaro Sport, vis patto d'amore con i tifosi, rocca bianco-rossa, orgoglio e privilegio sul palco, entusiasmo e calore in platea, questa è l'immagine di Pesaro con i tifosi, ma vi ricordo che c'è anche quella granata, oggi è una giornata importante per i tifosi del Fano che si ritrovano attorno alla propria squadra, che quest'anno milita e militerà nel campionato professionisti di Lega Pro, un abbraccio ideale per dare il via con entusiasmo a questo nuovo campionato. E adesso apriamo il resto del Carlino con la pagina di Pesaro e la fotografia, guardate, la macchina sulla quale viaggiava Claudia, un colpo di sonno e la fine, scrive il giornale, ancora sangue sulle strade, sbanda all'alba dopo la festa, feriti lievi i tre ragazzi a bordo con lei. La famiglia ha deciso di donare gli organi di questa ragazza di soli 20 anni, la vedete in queste fotografie pubblicate sulla sua pagina di Facebook, è spianto di corne e tessuti. Il padre di un amico dice mio figlio dormiva, poi ha sentito le voci delle sue amiche, ma purtroppo non quella di Claudia. Era una delle ragazze più belle di Cantiano. Cantiano sospende tra l'altro tutte le feste in programma in paese fino al 21 agosto. E Mattea ci dice ti alzi, sai della tragedia e ti cade il mondo addosso. Il padre è un noto dermatologo, è un medico di famiglia, la madre, il fratello e una sorella. E qui vedete la rete sottopiegata che delimita il campo sportivo, l'impatto a pochi metri dalla casa dove appunto abitava Claudia. I vandali, siamo sulla pagina di Fano, i vandali decapitano un'opera del professor Papagni, lo sfregio, la sentinella che è posta all'ingresso del complesso di Sant'Agostino, siamo in centro a Fano, è stata, come vedete, sfregiata, l'amarezza dell'artista che dice quanta ingratitudine da questa città. Non può essere un gesto accidentale, il collo è piegato, qualcuno evidentemente l'ha spezzato. Poi la foto con la fascia tricolore di Don Luigi Ciotti che ieri a Bellocchi ha ricevuto appunto l'incarico di governare il paese dei Balocchi per i prossimi giorni, Don Ciotti, dopo Don Ciotti c'è Ottaviani, come dicevo, tra i Balocchi e sotto invece il racconto di una donna che ha aspettato un'ambulanza ferma 5 ore per aspettare la firma di un medico, la denuncia di una donna, un'assurdità, dovevamo solo fare delle radiografie sotto acqua e torbi da Sassogna. Colpa delle scogliere, ci si domanda. E allora la pagina ancora di Pesaro del Carlino, Polizia, i sindacati contestano le cifre, pattuglia a metà, ma non per la 104. Questo è un articolo che ha pubblicato ieri, si riferisce all'articolo che ha pubblicato ieri il giornale, riferendosi all'organico della Polizia Autostradale di Fano. Si parlava di 40 agenti di polizia, la metà dei quali, 50%, dunque era spesso a casa per assistere, grazie alla legge 104, qualche parente, eccetera, eccetera, quindi per motivi, diciamo, di salute, per assistere persone ammalate. Ebbene, oggi, dopo quell'articolo pubblicato ieri sulla Polizia Autostradale di Fano, che da anni mette in strada solo la metà delle pattuglie dovute per indisponibilità personale degli agenti, ha spinto i sindacati a prendere posizione. Qui potrete leggere tutta la controparte, tutto quello che hanno da dire il sindacato di polizia e quant'altro. Solo al mondo lo aiuta Facebook, da Fossombrone arriva questa storia che riguarda Tonino, che sorride nella casa risistemata da gente di buon cuore. E ci sono storie che vanno raccontate, è bello raccontarle, perché ti restituiscono fiducia nelle persone. Tonino abita a Fossombrone, ha 59 anni, alle spalle una storia di depressione. E qui c'è tutto quello che c'è da sapere, acquistate il giornale, io mi limito semplicemente al titolo, altri due divani abbandonati per strada, invece la curiosità, i forsempronesi lasciano ovunque, persino in centro storico, ma purtroppo ormai anche qui ci siamo quasi abituati, non su Fossombrone, ma in generale. L'altro giorno c'era una lavatrice e un divanetto, una poltrona lì vicino, al campo d'aviazione, siamo nella zona di Fano, ed era da una parte anche divertente, ci si poteva ironizzare sopra, ma c'è poco da ridere sul fatto che c'era una lavatrice e una poltrona di fianco. Ma questo è purtroppo. La pagina di Fano invece si occupa, così come l'altro quotidiano, della giungla dei semafori inutili, vanno rimossi la denuncia dei Cinque Stelle, l'assessore Fanese dice costerebbe 50.000 euro spostarli tutti, comunque toglierli, bonificare tutta quanta la zona. E noi in questo momento abbiamo, dice l'assessore Fanese, che vedete in questa fotografia, abbiamo altre priorità. E questa è la pagina principale di Fano. Credo che non ci sia altro, mi pare di no, sì c'è un appuntamento, se volete, chiudiamo con qualche ricordo, in musica, i ricchi e poveri, il biondo e la brunetta, l'avventura continua, siamo più forti di prima, i ricchi e poveri in concerto questa sera a Montecucco. Saranno soltanto in due, perché l'altro non c'è più, Angelo Socciu e Angela Brambati hanno attraversato davvero quasi mezzo secolo di storia della musica, iniziando come quartetto, adesso fanno semplicemente un duo, ma sarà un piacere. Questa sera a Montecucco riascoltarli e magari rivivere un po' gli anni che furono. Grazie per aver seguito Occhio ai giornali, ci ritroveremo questa sera alle 20.30 sempre sul canale 17 di Fano TV per il telegiornale. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie per aver guardato il video.